Om Shanti Questa è una breve lezione seguita da un commento di meditazione eseguito da Enrique Simo che fa parte del direttivo dei Brahma Kumaris centri di Raja Yoga spagnoli e il titolo è Andare al di là delle preoccupazioni Buongiorno e benvenuti e benvenute In questa meditazione sperimenteremo come creare uno stato di coscienza elevato e vedere dall'alto tutto ciò che accade nel mondo e nella nostra vita da una certa distanza riuscire a vederlo con distacco con più calma e tranquillità e con una prospettiva diversa con uno stato di pace, tranquillità ed equilibrio e quindi iniziamo con questa esperienza respiriamo profondamente e prepariamoci a questo viaggio verso il nostro interno Lasciate che ogni respiro vi accompagni creando questo stato di presenza questo stato di coscienza dell'adesso lasciando andare via tutto ciò che non ci serve in modo da poter essere pienamente consapevoli di questo momento attento a noi stessi e al momento presente attenti al nostro respiro coscienti mantenendo questa attenzione interiore man mano si trova questo spazio silenzioso dentro di noi fate sì che il respiro vi accompagni e che la vostra attenzione vi accompagni e abbiate l'intenzione ferma di essere qui nel presente e non permettete alla mente di vagare in altre direzioni si sa per esperienza che la mente tende a fluttuare verso le preoccupazioni verso ciò che non ci piace che ci dà fastidio che genera la mentele a volte la mente cerca dei colpevoli al di fuori di noi stessi nel nostro circondario cerca scuse per distrarci dal presente adesso sapete che nel presente c'è potere nel presente si trova la pace e nel presente che si risveglia la coscienza mantieni questa intenzione di restare qui in questa consapevolezza restando consapevoli di meditare sapendo che meditare vuol dire prendere coscienza meditare vuol dire non distrarsi non permettere alla mente di divagare ma focalizzarsi seguendo e rispettando l'intenzione in modo che la mente resti sotto il nostro controllo e che si possano creare esperienze al nostro interno sono presente sei cosciente di questo momento sono cosciente di questo momento sono qui nell'adesso resta lì con intenzione e determinazione focalizzata rimani lì non lasciare che la mente vada in qualsiasi altra direzione non lasciare che la mente non cercano il più e adesso collegati col potenziale che c'è dentro di te con le qualità originali del tuo essere accetta esperimenta il fatto di essere un essere di pace sperimenta il fatto che tu sei pieno di amore accetta la purezza presente in te accetta la realtà che tu sei luce accetta la tua identità spirituale il potenziale di pace che è racchiuso in te la fonte d'amore che c'è in te l'energia che sei tu la forza e il potere che riposano in te l'energia sei diversa dal personaggio che interpreti influenzato da debolezze dai vecchi schemi dalle tue credenze dai tuoi limiti ma quando ti colleghi col tuo vero essere con l'anima col tuo potenziale l'energia 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 la imprescente l'energia 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 ti vedi oltre questi limiti e focalizza la tua mente, immergiti in questa esperienza. E puoi immaginare che in quanto essere di luce, un essere di luce cosciente, ti elevi al di sopra del luogo in cui ti trovi, ti elevi al di sopra della città, del luogo in cui vivi e sei persino in grado di andare al di là, al di sopra di questo mondo e vedere il mondo da lontano, dall'alto. Tu sei luce, puoi volare, perché sei un essere cosciente e libero. E da questa prospettiva vedi il mondo, la tua storia, con distacco. Tutto ciò che sembrava tanto grande quando eri in basso, dall'alto sembra molto più piccolo. Eleva il tuo stato e osserva da questo stato chi sei, le tue circostanze, il tuo intorno e persino il mondo, osserva con distacco, osserva di che cosa ti accorgi. È diverso quando osservi dall'alto, da uno stato elevato di coscienza. Grazie a tutti. La tua coscienza è in alto. E puoi renderti conto che questo mondo è come un grande teatro con tanti attori che svolgono vari ruoli, alcuni drammatici, e tutto avviene simultaneamente. Ma lo vedi con distacco, alcuni soffrono, alcuni sono felici. Adesso puoi restare all'esterno di questo, osservando da una certa distanza con distacco, lasciando che ogni scena del teatro della vita si riveli, si mostri. senza che tu intervenga, senza emettere giudizi, senza che tu produca alcun pensiero. Si tratta di una commedia in cui ogni attore ha un suo copione. e l'unico modo di influenzarlo è quello di inviare la tua energia, la tua luce, agli attori che recitano il loro copione, in modo che lo possano interpretare nel modo migliore possibile. Ma non puoi alterarlo, non puoi alterare neanche il tuo copione. Puoi viverlo con maggiore consapevolezza e puoi scegliere l'attitudine, l'atteggiamento da avere mentre reciti la tua parte. E quindi, da questa distanza, invia la tua luce agli attori di questo teatro. Non importa come siano, la luce della coscienza risveglia la coscienza. Invia loro la luce. Puoi anche vedere te stessa mentre reciti in questo scenario della recita della vita. Invia luce a te stessa, al tuo copione, al tuo personaggio, in modo che risvegli la propria consapevolezza. Li staccati dal personaggio. Si tratta solo di un personaggio. Non è nient'altro che un teatro. Tu, l'anima, sei un essere eterno. Non sei quel personaggio. Non sei un essere perituro o limitato. L'anima è eterna. Ora, senti la tua eternità. E mira la tua storia. Osserva la tua storia dall'alto e dai luce alla tua storia. Allora, senti la tua storia. e adesso da questa coscienza elevata eleva ancora di più la tua coscienza e collegati con l'essere supremo con la luce al di là di questo mondo collegati con questa fonte eterna di amore e di pace e colmati con questa energia collegati collega la tua mente con la luce e permetti alla tua mente di riempirsi di luce non lasciare che ti porti in nessun altro luogo soltanto verso la luce mantieni la tua attenzione submergete nella luce immergeti nella luce non lasciare che ti porti in nessun altro luogo soltanto verso la luce resta lì assorbendo la luce immergeti nella luce scomparendo nella luce ecco Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il giorno che hai davanti a te e colmalo di luce tutte le azioni e relazioni che avrai, le persone che incontrerai, illumina il tuo personaggio di luce in modo che la giornata sia favolosa, piena di coscienza, di consapevolezza e di luce, di spiritualità. Prepara la tua giornata con la coscienza elevata. Grazie. 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 Visualizzati vivendo con más luz, con más consciencia. E' con questo livello di distacco che ti consente di osservare da una distanza, a partire dalla tua consapevolezza spirituale. Non lasciarti prendere dal personaggio. Vivi a partire dall'anima, dalla coscienza, dalla luce. e interpreta il tuo ruolo come un grande attore come un grande attore che interpreta il migliore ruolo che il tuo ruolo. Tu sei un grande attore quando la tua coscienza è risvegliata, ma sei un cattivo attore quando la coscienza dorme. Non permetterle di addormentarsi. Meditare vuol dire risvegliarsi e dare vita alla propria vita. e con questi pensieri preparati a ritornare, ad affrontare la quotidianità. Respira profondamente. Inizia a muovere un po' tutto il corpo. E mantenendo questa consapevolezza, vivi una grande giornata. Possa tu essere il miglior attore nel copione della tua vita. E passa una bellissima giornata. Te lo auguro di cuore. Om Shanti.